Ciao! Mi chiamo Vanni De Luca e sono un mnemonista. Praticamente è uno scioglilingua incomprensibile che serve solamente a dire che faccio spettacoli usando la mia memoria. Non voglio venderti nulla e per carità, quindi davvero non troverai link, cose da andare a visitare, corsi da comprare, non mi interessa nulla di tutto questo. Mi piacerebbe difenderti, se posso, dal nuovo sedicente guru di turno pronto a venderti l'ultima moda del momento. Il corso di tecniche di memoria. Tantissimi utenti incontrando pubblicità in rete mi hanno chiesto se queste tecniche funzionano perché le uso da 13 anni e ci tenevo a fare chiarezza una volta per tutte. Forse dico una cosa un po' impopolare rispetto a tutto quello che gira oggi sul web e non solo, ma le tecniche di memorizzazione davvero non sono la risposta a tutti i mali del mondo quando si parla di apprendimento, di dover imparare qualcosa a scuola oppure in qualsiasi ambito della vita. Ve lo dico con molta sincerità, io faccio spettacoli con la memoria da 13 anni a questa parte. Qualcuno di voi mi avrà visto in mille salse andando magari in televisione mentre provavo a risolvere un cubo di rubik mentre recitavo a memoria un passaggio della Divina Commedia e nel frattempo facevo dei calcoli complessi su di una lavagna oppure durante una TED Talk mentre parlavo di memoria, degli strumenti mnemonici come si sono evoluti negli anni, oppure semplicemente se ho comprato un biglietto per guardarmi durante il mio spettacolo Prodigi dove recitavo a memoria date storiche, le pagine di una rivista scientifica o giocavo a scacchi bendato. Quindi sai, se tanto mi dà tanto, una cosina da dire sulle tecniche di memoria, ma magari penso di averla. Un percorso che ti consente di trasformare una conoscenza in una competenza e magari un domani anche trasferibile a terze parti, magari nel mondo del lavoro, le tecniche di memoria le mette all'ultimo posto, non al primo. Prima c'è il metodo di studio. Ne vuoi la riprova? Facciamo subito un esempio pratico che sono sempre migliori così tagliamo subito la testa al toro. Il tuo compagno di studi non sa che cosa siano i loci di Cicerone, lo Shape System, la conversione fonetica di Pierre Erygon. Cose comunque fichissime, andate a vederle perché vi si aprono mondi. Ed ecco che puntualmente lui se ne frega e si acchiappa dei fotonici 30 e lì subito tendiamo a giustificarci. Eh ma lui è un genio, eh ma lui è predisposto, eh bla 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 bla. Perché probabilmente sotto quella scorza che vedi tu da fuori lui si sta facendo un paiolo così. Quindi chiedi a lui prima di andare a vedere questi corsi di memorizzazione rapida. E lo so, probabilmente ora mentre guardi questo video qualcuno ti ha anche già invitato ad andare a un open day per scoprire queste grandi tecniche di memorizzazione rapida e per invogliarti ha memorizzato davanti ai tuoi occhi una ventina di cifre nel giro di un minuto e le ha richiamate in qualsiasi modo tu volevi. Magia. In realtà nessuna magia è un metodo e anzi complimenti a chi sa usarlo. Ma proprio perché queste dimostrazioni sono fatte per instillare in te una sensazione di stupore, di voler diventare più intelligente, stai attento a fare considerazioni errate. Quando si parla di studio siamo tutti deboli, lo studio è fonte di ansia e stress per molti di noi. Quella che hai visto è la dimostrazione di un'abilità estremamente settoriale. Se ci pensi è un po' come saper suonare il pianoforte, con un po' di studio, con un po' di pratica, con un po' di astinenza sociale, anche tu puoi farcela. Saper memorizzare venti cifre non significa quindi diventare più intelligenti, questo è assolutamente un falso scientifico, diteglielo subito. E non significa sbloccare le incredibili potenzialità, le porte infinite, sconfinate della memoria. Non è proprio così. Significa saper memorizzare venti cifre. Prova a pensare, no? Un po' come dire che saper suonare il pianoforte fa di te un medico. Guardi, signor Rossi, vista la situazione... Ecco, secondo te ha senso. Ma loro fanno fede alla vostra correlazione errata per vendervi il corso. Il marketing è emotivo, ricordatevelo sempre. Cercano di prendervi letteralmente in pancia con queste performance, queste dimostrazioni. Se si vuole partecipare a una di queste giornate introduttive dei corsi da parte di una di queste realtà, ma ben venga, voglio dire, viva la curiosità, chi sono io per impedirlo. Però cercate di andarci con un po' di occhio critico. Durante queste giornate solitamente il coach di turno memorizza delle informazioni, quindi delle parole oppure dei numeri che vengono generate dalla platea che lì davanti a lui e dopo le richiama anche in ordine casuale, dalla prima all'ultima, dall'ultima alla prima e noi per questo gli facciamo un grande plauso. Poi farà fare esattamente la stessa cosa tutte le persone che è davanti, quindi si memorizzerà una lista di 15, 20, 30 parole e chiunque sarà in grado di richiamarla dalla prima all'ultima, dall'ultima alla prima, quindi verrebbe da urlare al miracolo. Invece c'è un attimo da pensarci a questo, perché si è memorizzata una lista di parole, qualcosa che non ha bisogno di un'elaborazione concettuale. Dopodiché al termine di questa giornata introduttiva dove tutti si sentiranno gasati perché wow ho memorizzato 30 parole, 30 nel giro di 5 minuti. Ecco, fermi un secondo. Cerchiamo di ragionare con la testa e non di pancia. Due cose da fare. La prima, ringraziare chi ci ha ospitati, perché alla fine ci ha dato il suo tempo ed è una cosa che vale denaro, quindi è giusto ringraziare questa persona. Punto 2, sicuramente il primo invece per ordine di importanza, ma qui volevo arrivare, proprio perché la vendita emotiva occhio a non lasciarti trascinare. Decidi con calma, a casa, quindi con mamma, con papà, con l'ausilio di un insegnante se serve, se sì o no, acquistare il corso. Anzi, sinceramente il consiglio che do a tutti è proprio quello di andare direttamente con i propri genitori a queste giornate. Attenzione però, i genitori non fanno fede perché anche loro sono esseri umani e rischiano di essere chiaramente coinvolti a livello emotivo. Cercate di andarci quindi con qualcuno, un educatore, un insegnante che guarda il tema dell'educazione con piglio scientifico. Bene, io ho detto tutto. O quasi. Se qualcuno ti avvicina dicendoti che ho fatto il suo corso di formazione oppure ti fa vedere un mio video, non so, di una volta che sono stato in televisione o altro, di una TED, e ti dice guarda Vanni De Luca, hai visto? Ha fatto un corso di memorizzazione e ha sbloccato la capacità di ricordare tutto. Ti sta mentendo. Non esitare a denunciare l'accaduto su qualsiasi mio social. Per due motivi. Il primo, non ho mai fatto un corso di memoria rapida in vita mia. L'ho imparato da autodidatta sui libri. Punto due, quello che faccio io richiede sangue e sudore per otto ore al giorno. Non auguro la mia vita a nessuno. È diventato il mio unico lavoro. È come timbrare il cartellino ogni giorno per riuscire a mantenere e fare quello che faccio garantendo una performance perfetta sul palcoscenico ogni volta. Quindi o si fa così oppure non si riesce. La memoria è lavoro, sangue e sudore. Scusa se sono un po' arrabbiato. Se ti esorta qualsiasi curiosità guardando questo video, ti prego di iscrivermi. Facebook, Instagram, LinkedIn, sempre pronto a dipanare qualsiasi dubbio. Se vuoi guardare qualcuno dei miei lavori, davvero YouTube, Facebook e Instagram sono pieni di video. Se invece vorrai vedermi dal vivo, sarò a Trieste a partire dal 21 novembre con lo spettacolo Valzer per un mentalista. E sul palcoscenico con me ci saranno Romina Colbasso e Andrea Germani, due attori fenomenali. Sarò uno spettacolo che unisce per la prima volta intrattenimento mnemonico, mentale. Quindi la memoria e dall'altra parte lo spettacolo di prosa. Quindi ti aspetto davvero e per qualsiasi cosa scrivimi.